Strada statale 673, i carabinieri di Foggia arrestano Angelo Losurdo Cerignolano 40SN. L'uomo sorpreso alla guida di un camion rubato, carico di merce anche questa o provento illecito. I risultati dell'attività messi in campo che ha portato all'arresto del 40SN sono stati resi noti in conferenza stampa Foggia, presso il locale Comando Provinciale dei Carabinieri. Losurdo, alla vista dei militari che gli intimavano l'alt per i controlli di un posto di blocco indisturbato, aveva proseguito una marcia a velocità sostenuta, imboccando la strada statale 16 bis in direzione Cerignola. Pronta la risposta dei carabinieri che lo hanno inseguito, è affiancato sparando alle gomme del mezzo sul quale viaggiava. Il 46N ha poi cercato di darsi la fuga a piedi, ma è stato bloccato e identificato. Al controllo il veicolo è risultato urbato, così come l'intero suo contenuto, quali cartoni di bibite, per complessivi 20.000 euro. Il furto era stato perpetrato poche ore prima in un capannone industriale di colonnella in provincia di Teramo. Ha accertato inoltre come l'uomo fosse in grado di ascoltare la polizia e anticiparne le mosse, intercettandone le frequenze radio. Losurdo è stato così arrestato, il materiale, nonché l'automezzo, restituiti ai legittimi proprietari.